La mia Nami... Nami Bane sembra già forte. Nami Jean, cos'è forte? No, Luciano lo so usare. Gioco, gioco, gioco. Luciano, mi guidi tu. Ti guido io. Anche perché io non guido. No, lo so non guido. Lo sai, o guidi tu, o nessuno guida. Se ti piace Jean, Jean è sempre bello. No, ma Fragora non può giocare Dave, non è abbastanza razzista. Per giocare cosa? Driven. Ah, no, no, infatti. Pure i game player sono pazzi, tendenzialmente. Sì? I game player sono pazzi. Ah, ok, ok. È che non ho modo di vederli perché sono io il game player, capito? Quindi non riesco a dire che in effetti ne ho visti tanti. Ho convinto il nostro jungler a venire da noi. Bravo per il mind control. Oh, no. È successa una cosa in giungle, è successa. Ho visto, ho visto. Però si salva. Oh, si salva. Assurdo, grande. Grande. Boom headshot. Sì, sono stato un po' distratto. Mi sono fatto headshotare. No, chi vappalo. Vabbè. Ormai non ti curo. Feial? Sì, ma sono meno inutile. No, vivo. Il guardian. Il guardian. Il guardian. Ok, adesso vinciamo questo. No, non c'è il leggo. Ahia, però. Non dovevo beccarmi la trappolina, non l'ho però vista. Peccato. Peccato. Sono morto. Ma che fa? Ma non c'è. Non sono morto. Ormai. Devo smettere di prendere me sta combo di chiedere nel muso. No, vabbè, lì ce ne riuscivamo con l'ultimo testo. Ma non c'è niente. Tanto noi abbiamo 2 stay nel lane e loro no. Sì. E lo? Ma? Peccato. Oh, c'è il Silas. Va bene, va bene. Come mi piaceva? Ah, andavo forse ad usare solo il flash, non lì al mannaggia. Va bene così. Uscirei questo, regolerei. Ho bisogno. No, hai ragione, tu eri senza back. Ah, sì. Non ci penso a queste due. Vabbè, fa niente. Comunque. Cosa hanno utilizzato? Ehm, flash, flash. Ah, sì, non posso muovermi. Ho preso la pedappolina. Oddio. Mannaggia. Sto guardando un idio da altro. Tranqui, tranqui, tranqui. Ma Zack è convinto, è quello che sta facendo. Non credo. Mi ha chiesto il sub. Ma aiutalo, 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 una mano. Ma ce la fa, l'ultima. Ah, che cosa fai? Premi, tasti, raccogli il blob, rimane in vita. Oh, mio Dio. Invece di flammare. Vabbè, povero Zack, è una partita stressante per lui. Vai, vai, vai. Fai l'esca, fai l'esca. E' curato. Mio Dio, sono stato tra giù con quella. Ma c'è Jayce? Sì, è tipato. Che storia. Già. Oddio, ma si salva anche lui? Sì, è un miracolo. Madonna, veramente. Questi stavano incazzatissimi. Buon drive. Volevo interrompere quella Jayce, che poi alla fine è rimasto. Cioè, per andare lì. Possiamo prendere la torre. Muore, muore, muore. Zed Ignite addosso. Eh, non ci ha creduto. Aiuto! Erano entrambi morti. E vabbè. Che divertimento. No, non potevo pensare. Non è spesso. Magari pushano mid, li ammazziamo. Ma essere un po' più propositivi. Solo che certamente non posso io prendere e ingaggiare. Posso fare la R al massimo. Oddio, questa fa schifo. Penso di rimanere in bitone, estamente. Caduta tu da prendere io di ognina. Non è andato male. Oh. Ora un po' peggio. Vabbè, ma siamo ancora messi bene onestamente. In faccia, se giugruppiamo siamo forti. No, se dice ce l'ha con lui dall'inizio. Eh, vabbè, sì. Ma dal game di prima gli stanno flammando i due. Ovviamente. Oh, Gesù. Ah. Non pensavo di morire. 3 e meno. No, basta. Ma non è un posto o due. No, non è una ulti, Zac. Oi, oi, una full tragedia. Non pensavo di venire l'ultimo. Io non pensavo di morire così e basta. C'è un po' di problema in me. E' un po' dappertutto, onestamente. No, in realtà la nostra win non è messa troppo male. Eh, vabbè, ma manca tanto bene. Momento di anno. Almeno abbiamo preso una kill. Ce l'ha ancora, possiamo fare. Ce la possiamo ancora fare, no, ragazzi? Non è sì. L'ho presa io! Me lo abbiamo presa. Me lo abbiamo presa. Basta scalare, credo. Oddio, loro scherino... No, il nostro è forte, mi piace. Non so, vorrebbe essere stack di ulti, onestamente. Ce l'aveva. Ma... Oh, è preso, no? Eh, potevo fesciarla. Vabbè, se posso anche pensarci io. Oh, è preso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma dove ne è? Non è andata male, dai. No? Non ci sono più da tutti. Eh, kind of, non ero proprio full vida, ma mi ha picchiato. Oh, il resto del fight però è andato bene, direi. Il blob! Il blob! Vabbè, ma puoi comitare, cioè, nel senso... Sì, questo zack è patetico. Il rogna, mamma mia. Eh, vabbè, vabbè. Però, secondo me, abbiamo preso un po' di shutdown. No, mai direi mai. Parecchi, anzi. Eh, gone, non so, gg. Sempre. Ultimark. D'Alessio. Lui non. Piccato, non ti andavo tocca. Noi non perdiamo tipo 2 LP. Potevamo fare un po' di meglio, anche se non era facile. Si può fare un'altra bot per me? Secondo me sei troppo bad per avere un ore di giro. Ok, fair enough. L'accetto. L'accetto.